Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di imbraghi d'alpinismo e sci-alpinismo di Petzl. Nel particolare ho qua i modelli Altitude e Fly e insieme ne vedremo sia le caratteristiche ma soprattutto anche i pregi e i difetti. Ma iniziamo col video! Iniziamo con l'imbrago Altitude. È venduto in tre diverse taglie in base alla grandezza della nostra vita. Vi consiglio di andare sul sito di Petzl per scegliere quello che è la miglior taglia in base alla vostra grandezza. È un imbrago che pensate pesa solo 160 grammi nella taglia intermedia ML. È un imbrago veramente piccolo, quando andiamo a richiuderlo vi assicuro è piccolo piccolo da portare all'interno dello zaino, occupa pochissimo spazio e quando lo indossiamo è come una piuma, veramente non si sente addosso. Ha dei bei faccioni sia sulla parte superiore che su quelli cosciali, davvero fatti molto molto bene. Non hanno all'interno una vera e propria imbottitura, ma comunque essendo abbastanza grandi vi assicuro che non si sentono fastidi o dolori quando lo utilizziamo. È un imbrago che Petzl ha pensato per poter utilizzarlo e metterselo addosso senza dover sollevare i piedi da terra, comunque doversi togliere lo sci. Allora diciamo che si riesce ma non è proprio così semplice, soprattutto se avete dei guanti belli grossi vi assicuro che per passare la fettuccia principale all'interno della fibia ci vuole un po' di tempo, è un po' macchinoso, bisogna un po' prenderci la mano poi un pochino si riesce. Diciamo che all'inizio anche ho avuto abbastanza difficoltà, poi dopo un po' ho iniziato a prenderci la mano. Volendo ovviare, se non avete la necessità di metterlo con i piedi per terra, potete benissimo lasciare la fibia chiusa e poi calzarlo come un normale imbrago senza nessun problema. E in quel caso veramente lo potreste indossare in tre secondi. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo Altitude, innanzitutto ha due anelli porta materiali, uno sul lato sinistro e uno sul lato destro, ma non solo perché sopra questi anelli materiali abbiamo anche delle piccole fettucce dove andare ad attaccare ulteriore materiale. Come solito massimo ha portata 5 kg, se dovessimo mettere un bel po' di rinvii o friends che comunque fanno un bel po' di spessore non danno fastidio. E in più, sui cosciali abbiamo anche la possibilità di poter portare una vite da ghiaccio, una vite sul cosciale di sinistra e una vite sul cosciale di destra. Per quanto riguarda l'anello di servizio possiamo dire che abbiamo un anello abbastanza classico, possiamo andare ad attaccarci tutti gli assicuratori, possiamo andare a farci un nodo a 8, comunque i nodi di cui abbiamo bisogno. In generale la parte anteriore è abbastanza classica. Devo dire che questo imbrago mi ha veramente sorpreso per la sua polifunzionalità perché può essere utilizzato in tantissimi ambiti. Partendo dall'alpinismo classico all'alpinismo tettico all'oscialpinismo, veramente poi 160 grammi cosa sono? Niente, cioè 160 grammi ce li mangiamo quasi di pasta volendo alla fine. Quindi veramente sono dei pesi minimi e soprattutto poi come spazio diventa piccolo piccolo piccolo. Quindi veramente un imbrago molto ben studiato di cui poi a fine recensione vediamo anche il prezzo. Passiamo ora a parlare invece dell'imbrago Fly. Questo è ufficialmente l'imbrago più leggero che esista in casa Petzl. Pensate che nella taglia S, quella più piccola, arriva a pesare meno di 100 grammi. I 100 grammi sono più sulla taglia M. Questi 100 grammi sono però garantiti andando a togliere quelle che sono le imbottiture sulla parte superiore dell'imbrago e sui cosciali. Si possono togliere facilmente, vi assicuro è facilissimo e allo stesso modo è altrettanto semplice andare a reinserirli una volta che avremo utilizzato l'imbrago o comunque vogliamo rimetterli. E poi una volta che andiamo a togliere le imbottiture diventa anche estremamente piccolo. Cioè è poco più grande per intenderci di un pacchetto di fazzoletti, veramente è piccolissimo. Per quanto riguarda le feature abbiamo delle allacciature che sono state completamente studiate da Petzl e sono veramente particolari. Nella parte inferiore per andare ad attaccare i cosciali troviamo una fettuccia con un nodo a bocca di lupo in cui andare a fare passare una seconda fettuccia e andare poi a serrarle in modo tale che non si vadano ad aprire. È un meccanismo abbastanza semplice però che tiene, tiene veramente molto bene anche camminandoci per tanto tempo non si apre. Nella parte superiore invece troviamo sempre una piccola fettuccia in cui andare a far passare un pezzettino plastico che andrà a chiudere l'anello. Anche qua molto semplice da utilizzare, molto efficace e ha una chicca secondo me veramente particolare per chi fa scialpinismo. Questa parte anteriore è diciamo un pochino elastica. Quindi quando andiamo magari a fare delle salite molto impegnative di scialpinismo cosa succede? Che andando a respirare tanto ci si allarga a noi il diaframma e tutta la parte anche inferiore della pancia. E questo in brago non va a costringere il diaframma perché comunque ha un minimo di gioco andando ad aprirsi per questa parte elastica. Quindi veramente pensato soprattutto per chi fa degli sport molto molto aerobici. E poi per quanto riguarda invece l'indossabilità anche lui è pensato per essere calzato senza dover tirare via sci o comunque con i piedi a terra. Ma anche con lui ha avuto abbastanza difficoltà nel metterlo coi guanti. Se con l'altitude diciamo che dopo un po' ci si prendeva la mano e assicuro che con lui avendo poi delle asoline veramente piccole io con i guanti ho fatto un'estrema fatica. A livello poi di feature troviamo le stesse annelli porta materiali che troviamo sull'altitude. Una destra, una sinistra con anche qua le quattro asoline a cui andare ad aggiungere materiale. Allo stesso modo come sull'altitude troviamo anche la possibilità di poter portare due viti da ghiaccio. Uno sul coscia di destra, uno sul coscia di sinistra. Quello che cambia è l'anello di servizio. Qui non troviamo un anello di servizio classico ma troviamo praticamente due anelli che per andare ad attaccarci degli assicuratori o comunque anche farci dei nodi a 8 e via dicendo dovremo andare a fare direttamente il nodo su questi due anelli. L'imbrago è stato pensato, studiato e progettato così quindi mi raccomando quando lo utilizzate andate a prendere solamente i due anelli e soprattutto mai prenderne uno singolarmente. Ma arriviamo dunque alle conclusioni e vediamo anche i prezzi di questi due imbraghi perché vi assicuro se vi ha stupito il peso vi stupirà anche il prezzo. Parliamo dell'altitude. L'imbrago da alpinismo-scialpinismo viene venduto a un prezzo che sarà 60-65 euro. Il fly invece viene venduto a un prezzo che sarà sugli 75-80 euro. Vale la pena acquistare questi due tipi di imbraghi? Secondo me sì. Nel particolare vi consiglio di più l'altitude se fate dell'alpinismo, alpinismo tecnico eccetera. Se invece fate dello shalpinismo mi orienterei più sul fly proprio perché è anche più leggero. In generale comunque devo dire che sono fatti veramente bene, la qualità pezzel non si discute. Sono degli imbraghi che sicuramente si rivolgono a un tipo di utilizzatore abbastanza esperto, però vi assicuro che avere un imbrago di questo tipo così leggero, così piccolo anche da trasportare, se dovete andare a fare delle spedizioni di più giorni, se dovete andare a fare delle scese con tanti tanti metri di dislivello fanno veramente la differenza. E poi comunque dai alla fine 60 euro sono comunque quanto? 10-20 euro in più rispetto magari a un imbrago tradizionale. Quindi secondo me la spesa vale veramente tanto quello che si va ad acquistare. E detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esaurente ed esaustivo, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!